Ma esattamente ieri, chi me l'ha fatta fare? Che cosa mi ha detto il cervello per dirmi di fare un video sui genitori? Vabbè, comunque, ovviamente le domande sono state sul ok, ma come si fa a lavorare così duramente su di sé tanto da non accusare più le parole di un genitore o un atteggiamento sbagliato all'interno della famiglia. Perfetto. Faccio un veloce passo indietro. La nostra autostima si costruisce in famiglia. Noi impariamo come amare noi stessi, non fraintendete, come amare noi stessi in famiglia. Quindi se in famiglia non ci viene insegnato un amore sano, noi non sapremo amarci in maniera sana. Siamo spacciati? Per fortuna no. Perché questo lo possiamo ricreare in un momento successivo. Ovviamente non è semplice una ferita in famiglia, è così profonda, tanto che io ormai la chiamo il peccato originale. Sembra quasi che ci nasciamo con certe difficoltà, tanto sono ancestrali dentro di noi. Ma creandoci intorno un ambiente positivo, e questo c'è il modo di crearlo passo dopo passo, ed è una cosa che si può fare, è possibile farla capendo prima di tutto quali sono i nostri interessi e quale tipologie di persone avvicinare. fatto questo, queste persone ci insegneranno pian piano come è giusto essere amati. Perché dico che non è facile? Perché non è facile trovare persone che sappiano amare in maniera incondizionata. Quindi dobbiamo fare due cose. Aumentare la quantità e la qualità delle persone che frequentiamo, in maniera tale che pian piano queste vadano a colmare quel bisogno di amore profondo e incondizionato che ognuno di noi ha in se stesso. E ci ricordino, facciano risvegliare in noi la capacità di amarci ed essere amati in maniera sana, quindi priva di condizioni.